Tutto nasce da una ragione molto casuale, cioè il fatto che io sono andato a visitare la mostra quando era allestita a Bergamo, l'ho apprezzata molto, mi sono confrontato con gli autori e poi con la presidente dell'Unicef, il dottoressa Vezzoli, e ci siamo detti perché non portare una cosa così bella che ha anche un fondamento importante che è quello della solidarietà in Alta Valle, ovviamente facendo io l'assessore a Valgoglio ho individuato Valgoglio come località di riferimento per l'Alta Valle. È nato un piccolo dibattito tra alcuni amici e alla fine grazie anche all'interessamento di tutti, compreso il comune di Valgoglio e il sindaco, abbiamo deciso di portare la mostra a Valgoglio e quindi la apriamo sabato 16 e la chiuderemo i primi di maggio con l'auspicio che veramente approfittando anche del periodo pasquale, della stagione turistica, possa avere tutto il riscontro e tutto l'apprezzamento che merita. Ecco, cosa si può trovare in questa mostra? Come sono queste poesie? Dunque, queste poesie, diciamo, rispecchiano un po' quella che è la quotidianità, la realtà dei nostri tempi, in quanto si rivolge, diciamo, alle problematiche che troviamo tutti i giorni, diciamo, in forma poetica, però comunque hanno una loro dimensione che si rispecchia poi nella pittura dell'amico Fabio. E come ci descrivi invece le sue opere? Le mie opere sono, bene, una pittura figurativa moderna, però, come dicevo prima, al centro delle mie opere c'è sempre l'uomo, con le sue paure, le sue difficoltà, le sue incertezze, e quindi queste paure sono sempre moltiplicate oggi nel tempo che, diciamo, moderno, chiamiamolo. E, diciamo, il poeta Sergio l'ha rispecchiato tanto, benissimo, nelle loro sue poesie. È stato un po' un lavoro interattivo tra noi due, quindi ci siamo trovati anche proprio come idee. Quindi, per questo, questo lavoro è, diciamo, da un lato uscito per noi, penso bene. Il nostro desiderio è di mandare il nostro messaggio unicef, che è i bambini sono sotto la nostra protezione, i minori sono sotto il nostro ombrello e noi dobbiamo aiutarli a crescere per farli diventare adulti responsabili a loro volta, quando dovranno gestire famiglie, scuole, istituzioni e il mondo intero. Quindi cerchiamo di raggiungere attraverso i giovani, quindi attraverso la scuola, anche i rispettivi genitori, gli insegnanti e le istituzioni. Lo scopo è quello di far riflettere che il mondo purtroppo non è tutto uguale. Oggi muoiono 22.000 bambini al giorno. Noi questo dato lo dobbiamo assolutamente abbassare e ridurre con l'energia e con l'aiuto di tutti. Quindi abbiamo colto con estremo piacere la possibilità di trasferire questa mostra molto bella che è stata fatta a Bergamo con la possibilità di aiutare la ricostruzione delle scuole per i bambini di Haiti, che sono stati colpiti dal terremoto. La richiesta di portarla in Alta Valle per noi è stato un piacere immenso perché vuol dire attraverso l'arte, attraverso i colori di un quadro, attraverso le parole di una poesia, sensibilizzare e far capire che attraverso l'arte si può anche aiutare qualcuno che ne ha bisogno.